Grazie a tutti ragazzi, prima che il video inizi volevo informarvi che sulla copertina di questo video potete vedere 8 differenti leggings mentre nel video uno di essi non sarà presenti, questo perché dopo aver caricato il video su Youtube, Youtube stesso mi ha confermato che il mio video era potenzialmente offensivo in quanto conteneva nudità quindi ho preferito provare ad eliminare quel particolare leggings a cui avevo dovuto apporre una piccola censura in quanto segnava troppo le parti intime e me ne sono accorta solo in fase di editing al momento attuale ancora non so se questa cosa potrà funzionare o se Youtube continuerà a confermare il mio video come potenzialmente offensivo però insomma proverò in questo modo sperando che riusciate a vedere questo video se il tutto andrà a buon fine spero che il video vi piaccia fatemi sapere se volete vedere altri dei miei leggings in quanto questa è una piccolissima parte di quelli che possiedo e se vi farebbe piacere vedere altri video haul di abbigliamento io vi ringrazio e ci vediamo con il prossimo video a presto ciao ragazzi il video di oggi sarà un video diciamo show interno per quanto riguarda alcuni dei miei leggings in allenamento intanto qui sistemo la stanza per renderla più presentabile e pronti alla registrazione da Youtuber Pro iniziamo con il primo paio di leggings questi leggings non li uso più molto effettivamente perché davanti fanno un po' un segno brutto e poi perché hanno questa vita così un po' bassa e non mi trovo più bene ad utilizzare durante l'allenamento preferisco una vita più alta che mi faccio sentire più sicura e questi leggings adesso non ricordo di dove siano questo è il logo del brand che è un brand americano vi lascio comunque in descrizione sotto il nome appunto del brand del sito e sono carini per il fatto che dietro abbiano questo scrunch passiamo a questi qui che sono decisamente più standard come modello tanto che sono veramente comodissimi e li uso anche per uscire sono, li ho presi su Aliexpress ma sono veramente morbidi, super stretch e super comodi, veramente non sono trasparenti sono comodissimi, ci si può muovere tranquillamente e non fanno nessun segno sono abita molto alta come potete vedere e niente, io mi trovo veramente veramente bene ne ho tanti di tanti colori questa è solo una parte dei leggings che ho è tipo un quarto di tutti i leggings che ho poi se vi piace la tipologia di video vi farò vedere anche gli altri modelli dicevo, sono veramente molto 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 comodi e morbidi soprattutto il tessuto non si è rovinato dopo tanto tempo che l'ho usato li uso tranquillamente anche per fare gambe quindi squat, sono squat proof assolutamente quindi a prova di squat, non sono trasparenti e veramente veramente approvati quest'altro paio invece viene da Amazon e ha una copia di un paio di leggings della Gymshark che è un brand molto più costoso piuttosto che questi che ho preso da Amazon mi sembra che gli originali stiano sui 50 euro se non sbaglio questi li ho pagati 20 sono comodissimi io li adoro veramente li adoro a parte questo color lavanda molto bello e sono veramente veramente comodi e non qui dietro un pochino di scrunch 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 quindi sono un po' arricciati anche se non si vede più di tanto quindi sono più come si dice un po' più casti scusate la ciabatta meglio togliere la ciabatta per far vedere che è una lunghezza completa fino alla caviglia e ecco qui grazie e vabbè pazienza io sono smemorata però veramente io li adoro mi trovo proprio bene sono anche questi a vita alta come potete vedere e niente ci faccio tranquillamente sono squat proof quindi non sono trasparenti li indosso tranquillamente quando faccio gambe così come quando faccio la parte superiore del corpo addominali cardio vanno bene un po' per tutto sono un po' più spessi forse della media come gli altri neri ma veramente io li trovo molto validi hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e mi sono arrivati anche abbastanza in fretta essendo bene su Amazon quest'altro ecco anche vi faccio vedere anche da vicino come sono fatti vi faccio vedere un po' meglio per farvi capire quanto sono effettivamente comunque stretch questo è il tessuto che è come vedete sono molto stretch è un tessuto così camouflage quindi militare però con questo color lavanda con queste parti più scure e il color lavanda con questo puntinato se così lo possiamo chiamare che ricordo che ho un po' i pantaloni della tuta ecco quando sono grigi e niente io vi ripeto mi sono tornata benissimo e quindi approvati questi ero molto felice di provarli perché fino a quel momento non li avevo ancora provati mi sono arrivati proprio in questi giorni quando ho girato il video fanno un po' di difetto qui davanti al linguine perché il tessuto è veramente super 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 stretch e questi invece sempre vengono dall'Express hanno questo contouring sotto al sedere vengono dall'Express e sono invece una copia di un altro brand americano che si chiama navigation abbreviato N UGD se non sbaglio i leggings in questione sono davvero cari mi dispiace comprare tra virgolette delle copie su Aliexpress cinesi ma in realtà sono le stesse case a cui queste persone commissionano i leggings facendoli pagare dieci volte tanto quindi se posso io non trovo niente di male sono una lunghezza piena arrivano alla caviglia e li trovo veramente comodi fanno un bel sedere sono soddisfatta mi dispiace solo questo difetto un po' qui davanti però pazienza insomma e notate quanto è diverso il mio gluteo destro da quello sinistro ragazzi allucinante vabbè comunque niente e sono comodi sono comodi anche sulle gambe proprio perché sono così elasticizzati e niente i miei piacciono super provati vedete quanto è elastico il tessuto adesso vi mostro è super elastico veramente questa mi sembra sia una taglia S se non sbaglio o una M forse una M comunque sono veramente veramente carini super comodi questo contouring è molto lusiliero o flat rake come dicono gli americani anche in vita sono super comodi anche se sono a vita alta non non hanno non sono stretti ecco questa è un altro paio che per me è un proprio un must c'è l'indosso veramente spessissimi si può lavorare messi a migliaia di volte sono sempre di Aliexpress ne compro tantissimi di leggings di Aliexpress perché sono economici sono fatti bene se sapete da dove comprare e essendo abbigliamento per l'allenamento si può rovinare facilmente e ho notato che si rovina più facilmente un leggings di un brand più costoso piuttosto che questi questi sono una copia non so se l'ho già detto di un modello della James Shark e sono a vita alta ma sono morbidissimi anche in vita e e niente sono anche questi scusate la trippetta purtroppo la mia dieta mi gonfio in questi giorni ma pazienza noi non ci formalizzeremo e niente sono veramente anche questi comodi a parte il colore particolare li metterei anche per uscire veramente però io indosso cose colorate solo quando vado in palestra non so perché anche questi sono elasticizzati un po' più spessi degli altri e hanno questo gradiente azzurro verso il bianco molto bello questo gradiente è proprio più puntinato come dicevo prima per gli altri e però veramente anche questi super approvati e questi li ho anche sono lo stesso modello peraltro di quelli neri solo che questo è un colore ovviamente diverso e ne ho anche un altro tipo in grigio o ghiaccio e veramente ragazzi sono super 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 approvati ne ho altri in arrivo in questi giorni che mi sono già arrivati ma erano arrivati dal mio ragazzo quindi adesso li recupererò e volendo ve li faccio vedere poi i prossimi sono da bomb da bomb questi sono più costosi degli altri sono di un brand che si chiama EGHDX se vogliamo chiamarlo così e sono australiani li ho acquistati poco tempo fa mi sono arrivati in pochissimo tempo non li ho ancora messi ovviamente per andare in palestra visto il periodo ma sono molto comodi hanno questo rosa un po' anche questo puntinato non so come si chiama però avete capito con questi dettagli e sono veramente comodi ma il dietro ragazzi è qualcosa di cioè un altro livello con questo scrunch e questo contouring che veramente cioè anche penso sia lusindiero per ogni tipo di sedere diciamo così anche il colore si presta molto li avevo visti online non li avevano disponibili sul sito da tantissimo li volevo appena tornati disponibili c'era uno sconto li ho presi mi sembra siano sui 50 euro questi e niente sono veramente veramente soddisfatta sono belli non li ho ancora provati per allenarmi quindi sulla comodità ancora non mi posso pronunciare però sono veramente soddisfatta dell'acquisto sono a vita alta sono comodi ma peraltro ho le lentigini sul corpo quindi se vedete del puntinato attosso a me è perché ho lentigini un po' pancia schiena sono esattamente divisa a metà ma vabbè questa è un'altra storia questi mi sono piaciuti davvero molto e li proverò appena si potrà tornare in palestra perché mi alleno in casa ma non mi sembra troppo troppo il caso di metterli forza in casa però vabbè vi farò sapere poi se questa cosa dei video continuerà di questo genere vi farò sapere come mi sono trovata anche a livello di comodità passiamo ai prossimi che invece sono della Gymshark ora questi sono gli ultimi che vi faccio vedere oggi non li metto quasi più perché la vita è una mezza via è sotto l'ombelico e io ho la trippetta quindi mi da fastidio che si veda e vedete esce proprio fuori si sono forse un po' stretti anche lavandoli nel tempo il dietro è molto bello con questo contouring che fa proprio un bel sedere e diciamo che questi in realtà non sono pensati per essere portati probabilmente neanche sotto l'ombelico ma più bassi mi danno ancora più fastidio sui fianchi il grigio è bellissimo anche questo indovinato un po' puntinato e ha due grigi differenti come colore però questo fatto che siano così bassi e che mi segnino il punto vita me li rende ormai poco simpatici anche se sono molto comodi difettano un po' anche dietro sopra il sedere però ecco mi sono piaciuti anche questi mi sembrassero sui 50 euro come prezzo e li ho dà un pochino perché non è un modello super nuovo però ecco io mi ci trovo bene ma devo mettere una maglietta più lunga probabilmente per allenarmi e mi dà fastidio comunque che mi segnino sono una lunghezza anche questi non sono tre quarti sono pieni e vi è una lunghezza e niente questa era la mia parte della collection di leggings grazie per essere stati qui fatemi sapere se volete che i video continuino vi saluto e ci vediamo con il prossimo video ciao grazie a tutti